Quando in redazione nasce l'idea di un articolo, di un pezzo, il punto di partenza normalmente sono le domande, le domande ai diretti interessati. Capita anche spesso che questi diretti interessati sono persone, diciamo così, avvezze ad avere un rapporto sia con la stampa che con il pubblico. E spesso la necessità di sintesi, il poco spazio di disposizione, questo mondo frenetico in cui andiamo tutti alla velocità iperbolica, in cui a malapena leggiamo i titoli, spesso neanche del tutto, ci porta a non comprendere effettivamente perfettamente quelle che sono le espressioni, quelle che sono le frasi. E quindi si riduce tutto a titoli, a proclami, che spesso vengono anche interpretati, diciamo così, in un modo non corretto. Ora, visto che a noi piace andare in controtendenza, abbiamo cominciato già da tempo ad avere delle chiacchierate, delle chiacchierate con queste persone, con questi personaggi, vuoi il sindaco, vuoi l'amministratore di turno, di un ente o di altre cose. E queste chiacchierate sono delle chiacchierate che non sono fatte botte in risposta con delle domande pressanti, sono chiacchierate. Visto che la controtendenza di cui siamo abituati ci porta a far vedere anche i lati, diciamo così, umani di queste persone, abbiamo ritenuto opportuno metterle anche a disposizione, non soltanto della redazione in formato audio-video, ma metterle a disposizione anche voi, ovviamente con il consenso dei diretti interessati. E quindi cominciamo con questa chiacchierata. Le chiacchierate spesso cominciano anche con la frase, cosa c'è di nuovo, oppure cosa bolle in pentola. Ecco, cosa bolle in pentola? Ovviamente faremo anche un sunto, una sorta di condensato, di liofilizzazione di queste cose, da mettervi a disposizione in formato più ristretto. Però magari se avete voglia, non so, una sera potete passare un po' di qualche minuto ad ascoltarle, se ovviamente l'argomento vi interessa. Magari al posto del grande fratello. Allora, signor Sindaco, cosa bolle in pentola? Parliamo di piano di PNRR, questa sigla anche complicata da dire. A noi alquanto misterioso, almeno negli effetti conclusivi, adesso vediamo tante buone idee, tante chiacchiere, vediamo cosa riusciremo a tradurre poi in pratica. Dice che è importante riuscire a mettere a terra, dicono. Ma vediamo un po', qui siamo ancora in orbita, adesso non siamo ancora atterrati. La cosa importante è, intanto, come comune di Poggio Renatico, cosa bolle in pentola da questo punto di vista? Se state preparando dei progetti, poi ovviamente parliamo anche di quelli condivisi con il territorio, con gli altri comuni dell'Alto Ferrarese. O se, come sta succedendo anche da altre parti, da altri comuni, avete piani anche più grandi, che non riguardano solo l'Alto Ferrarese, insomma, o comunque che riguardano anche altri territori vicini a voi. Potremmo partire da quello lì e poi scendere un attimo, perché l'aspetto temporale ha anche il suo significato. Diciamo, noi ci siamo mossi anche su sollecitazione della provincia, in un discorso di proposta di una scheda per un discorso di piste ciclopedonali, che ha una valenza intercomunale e anche interprovinciale, perché la nostra piste ciclopedonale, o la ciclovia, dire la verità, in termini più corretti, dovrebbe svilupparsi sull'agine del Reno, mettendo in collegamento il Reno, in tutto il suo percorso, sia lato destro, lato sinistro, orografico, perché si inestrarà poi nel progetto anche che sta portando avanti l'Italia Metropolitana di Bologna, e favorirà l'inserimento tramite i percorsi lungo il cavo, quindi una direttrice nord-sud o sud-nord, con la ciclovia del Po e anche le ultime ciclovie che sono state realizzate nel Bolognese, e quindi parleremo di ciclovia vento e ciclovia sole, che sono già nelle mappe europee del turismo lento. Ecco, quindi il nostro obiettivo è quello di aprire il nostro territorio a questa forma di turismo lento, che è in grado di qualificare le nostre realtà, che sono ricche di storia, ricche di tradizione, ricche di gastronomia, e vorremmo puntare su questo progetto. Il Capofila è il Comunitare del Reno, noi siamo già associati, e tutto l'alto ferrarese sta proseguendo su questa strada. Quindi in sostanza parliamo di un collegamento che ti permetterebbe dalla città di Bologna praticamente di raggiungere attraverso Poggio Renatico, vabbè, Galliera, Poggio Renatico e terreno, di arrivare praticamente fino al Po. Certo, o al Po o al mare, o al Po o al mare. E dopo è chiaro che quando ci si mette sul Po si aprono anche le altre vie, quella che va al Lago di Garda, si aprono... Sono tutte le vie possibili che gli amanti della bicicletta conoscono bene. L'idea è anche di aprire un territorio che, soprattutto per quanto riguarda l'alto ferrarese, fino al Mirabello, è di antica tradizione bolognese. Noi siamo passati sotto Prince Ferrara dopo l'Unità d'Italia, in quel periodo, e quindi consideriamo... Siete terra dei Lambertini. Noi siamo terra dei Lambertini, quindi chiamare qualche curiosità turistica il nostro territorio serve molto gradito, anche perché abbiamo diverse cose interessanti, a partire come punto di snodo il Bosco della Panfilia a terra del Reno, ma poi venendo verso Poggio, ecco, il Castello Lambertini appunto, e tutte quelle attività gastronomiche di cui possiamo andare fieri, con peculiarità proprio nostra. e questo è stato il primo intervento che abbiamo fatto, diciamo, di comune a compio. Poi sono arrivate, un po' alla volta, le varie schede da compilare e noi abbiamo puntato in modo particolare... Scusate, se ti interrompo, dobbiamo dirlo perché le schede hanno, arrivano con una, diciamo, quasi con un carattere di urgenza rispetto alla progettualità di un comune, alla capacità progettuale di un comune. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Sì, hanno una finestra di un paio di mesi, non di più. Sì, sono molto strette, quindi è chiaro che bisogna già avere in mente una progettualità. Magari uno avesse anche il progetto esecutivo già pronto, perché poi il paradosso è questo. Le dinamiche normative ti frenavano nell'elaborazione del progetto esecutivo perché in realtà avessi già dovuto avere le risorse. E quindi molti di noi hanno solo a disposizione un progetto preliminare, di fattibilità tecnica, chiamiamolo così. E quindi ci siamo confrontati con quello. I progetti esecutivi sono quelli che poi noi abbiamo già messo in opera in campo anche perché abbiamo puntato molto sulle scuole. Di fatto abbiamo un piano molto ambizioso di legislatura di trasformare tutte le scuole che abbiamo in un percorso di riqualificazione che parte dal terremoto, dalle strutture che sono state riqualificate o strutture nuove che sono arrivate con i fondi del terremoto, ma per dare poi una risposta complessiva, educativa, di altissimo livello alla nostra comunità. Alcuni interventi, quindi abbiamo già fatto con il terremoto, ad esempio l'inaugurazione della nuova scuola media, ex scuola elementare. per un'opera che ha cubato quasi 2 milioni e mezzo di euro, quindi un intervento estremamente importante, ma non ci fermiamo lì perché, approfittando appunto di questa possibilità che ci viene data, candidiamo il PNRR, adesso veniamo noi, abbiamo intenzione di fare il lavoro di riqualificazione della palestra, l'ex palestra delle scuole medie. Dobbiamo fare una riqualificazione impiantistica, energetica dell'esistente, adesso ne abbiamo già un'altra palestra, lo chiamiamo il palazzetto, che è quello che è stato sostitutivo col terremoto, ma abbiamo una vecchia palestra delle scuole medie, quella degli anni 70 per intenderci, che ha bisogno proprio di un lifting totale, sia strutturale che impiantistico. Abbiamo un importo complessivo dell'opera, attorno ai 500 mila euro, di cui 420 finanziabili per lavori. Questo qui si comporterebbe il rifacimento dell'impiantistica, l'impiantistica energetica dell'edificio esistente, con la sostituzione anche delle finiture, del corpo degli spogliatoi, corpo palestra, con pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, tinteggiature, e poi con la sostituzione dei corpi riscaldanti della palestra stessa. E poi interventi sull'involucro dell'edilizio, di miglioramento delle prestazioni energetiche per le pareti, copertura del corpo degli spogliatoi e sostituzione degli infissi, sempre degli spogliatoi della palestra. Sempre in chiave energetica. Sempre in chiave energetica. Tra l'altro questo tipo di intervento, anche in linea strutturale, l'abbiamo già fatto sulla palestra di Gallo, e quindi stiamo lavorando con risorse nostre e con risorse di quelli che arrivano dalla Regione Emilia-Romagna o dal Ministero, perché si stanno sommando questi interventi. E quindi abbiamo diversi canali di finanziamento, abbiamo le nostre risorse, Ministero dell'Interno, Regione, PNRR. Sono diversi canali. Quindi dobbiamo farci trovare pronti con i progetti. Diciamo, e dobbiamo anche qui, sempre come postilla, dobbiamo aggiungere il fatto che PNRR ha dei campi ben precisi di intervento, quindi non è che si può chiedere denaro per altre cose che non siano quei campi, quegli settori specifici. No, diamo per scontato, perché ci sono proprio delle linee di intervento ben delineate che non permettono altro che rispondere in maniera definita e vincolante a quelle che sono le opportunità che vengono offerte. Poi naturalmente sono tutte candidature per acquisito un punteggio, poi in funzione del... È chiaro che se uno avesse già un progetto esecutivo pronto acquisirebbe un maggior punteggio. Noi c'è capitato in diversi interventi che pur essendo entrati in graduatoria non erano sufficiente punteggio perché non disponevamo dell'esecutivo. Poi abbiamo... Anche questo è importante, avere dei progetti pronti, i progetti comunque costano nel senso... Infatti, una volta ci si lanciava negli incarichi, una volta era possibile, potevi dare degli incarichi e arrivavi all'esecutivo, anche impegnando delle risorse. Adesso le norme non ce lo permettono più e quindi troviamo sempre dei progetti di fattibilità tecnica che paradossalmente però danno meno punteggio. Quindi il rischio è che i soldi vadano dove ci sono già. Perché chi è già arrivato all'esecutivo vuol dire che ha già messo da parte una buona... Ha già risorse disponibili. Vabbè, adesso sarà da verificare. Adesso sarà da verificare. Sempre in generale... Intanto, come si dice, ci proviamo. Ci proviamo. Cercando di stare sul pezzo, mettiamo lì il cappello. Noi vediamo se arrivano... Altro intervento che intendiamo candidare al PNR è la riconversione dell'edificio che attualmente è scuola elementare, per intenderci. È stata costruita con le risorse del terremoto, ma noi vorremmo riconvertirla a scuola materna. Questo è un intervento molto... All'apparenza dovrebbe presentarsi con un intervento semplice. In realtà, è abbastanza complicato perché la materna ha esigenze abbastanza diverse da quelle che sono elementari, anche se il ciclo scolastico è lì prossimo, no? Sì. Quindi, la finestra tra 6 anni e invece da 6-11 prevede grossi interventi, diverse modifiche. Quindi dovremmo fare... riconvertire l'edificio che attualmente ospita le scuole elementari temporanee in scuola materna, l'infanzia. Dovremmo intervenire con delle opere strutturali e opera di riqualificazione anche architettonica perché ci sono aree comuni del gioco, cosa che invece nelle scuole elementari non sono previste. Per i pasti, per i servizi, dobbiamo rifare le pavimentazioni, i vestimenti, le porte, i sanitari adatti ai bambini più piccolini e tutte le tinteggiature. Più la parte impiantistica, anche qui, le sostituzioni di corpi scaldanti e gli adeguamenti all'impianto elettrico. Poi, non solo, è necessario anche sistemare l'area esterna di pertenenza della scuola perché sappiamo che la materna ha la stagione buona, dedicano buona parte del loro tempo anche alla socializzazione dei bambini adesso passando questo periodo in fausto, però ai bambini, insomma, hanno piacere di anche star fuori, prendere le fresche e giocare all'aperto. Stiamo parlando di un importo complessivo di oltre un milione di euro, un milione e due, oltre un milione e due, e di cui 900, quasi un milione per lavoro. Questo ci siamo detto. Diciamo, non ci fermiamo al PNRR, da quando ci siamo parliamo un po' anche di quello che continua a bollire in pentola. Vorremmo arrivare, anche perché è un'idea che viene un po' da lontano, un po' alla volta ci stiamo arrivando, completare l'intervento di efficientamento energetico dell'asilo nido di Poggio Renatico. Ecco, anche questo era un progetto che avevamo candidato, ma siccome siamo entrati nel cratere, non potevamo attingere risorse dalla regione o dal ministero, perché venivano palesemente esclusi i comuni che già beneficiavano degli interventi di sostegno da terremoto. Ci hanno tolto dal cratere, ci hanno tolto dal cratere, perché siamo riusciti a fare tutti i progetti, di fare tutti gli appalti, anche quello più complicato del castello, che cuba più di 6 milioni di euro. E quindi... Ecco, apriamo un inciso, l'abbiamo già detto, l'abbiamo anche già scritto, però è in fase avanzata, insomma. Sì, sì, la parte strutturale è già in corso, è già abbastanza avanti. Tra l'altro, con le vacanze in atletizie, l'ufficio ha organizzato anche delle visite guidate, a numero chiuso, naturalmente, per vedere lo stato dell'arte, e andare a riscoprire quelli che erano i semi interrati, il nostro mini imbarcadero. Mini imbarcadero, esatto, come lo chiamate. Mini imbarcadero, che poi mini, mini non è, perché riprende tre quarti della superficie perimetrale del castello, quindi è un discreto imbarcadero, infatti ha lasciato tutti a bocca aperta. E così, quindi appaltato quel lavoro lì, speriamo di poterlo concludere entro la fine del 2023, adesso siamo usciti dal cratere, ci hanno tolto il cratere, che è stato ridotto da oltre 50 comuni, 17, e quindi ci candidiamo a questo punto ai finanziamenti, quelli ordinari. E volevamo completare l'efficientamento energetico dell'asilo nido, noi abbiamo un asilo nido che è composto di due unità che sono state fuse, una più vecchia degli anni 70 e una, tutto sommato, recente. È chiaro che la parte più vecchia ha bisogno di quegli interventi di efficientamento che non sono gli stessi della parte nuova, chiaramente, quindi portarla al livello della parte nuova. Quindi fare un capotto sulla la vecchia, rifacimento della copertura, tra l'altro la nuova è nuova, ma ha dei problemi di copertura, come al solito, quando facciamo dei lavori pubblici sta sicuro che ci piove dentro, sembra una maledizione, una maledizione, in tutti i lavori pubblici, tu finisci il lavoro pubblico, ci piove dentro e quindi ci devi tornare solo. È un male comune, eh? E dappertutto, dappertutto, perché poi i nostri tecnici si confrontano fra di loro, salta fuori che noi siamo anche tra quelli messi meglio, però a me dà molto fastidio questo aspetto, perché quando si interviene su un'opera nuova il fatto che ci piova dentro non è mai termometro di attenzione. Bisognerebbe fargli un collaudo proprio... Dopo due anni. Dopo due anni. Beh, fa due anni il collaudo, dopo due anni, adesso facciamo l'analisi di tutti i problemi che sono emersi. Come è andato? Di sicuro, di sicuro, un po' di acqua entra, di sicuro. Siamo fatta apposta. Comunque, in ogni caso, dobbiamo sistemare i servizi igienici, migliorare la pavimentazione dell'area comuni, sistemare le porte interne, sostituirli. Ah, e qui stiamo parlando di un intervento che cuba complessivamente 238 mila euro, di cui 170 mila di lavori. Di lavori. E, anche perché ne abbiamo già fatto tante di opere di dentro. E in più, volevamo completare l'adeguamento sismico della palestra di Gallo, perché la palestra di Gallo non aveva sofferto del sisma, praticamente non aveva fatto niente, erano stati fatti interventi messi in sicurezza, ma non sembravano non avesse nulla, di che in realtà, dall'analisi, poi che è stata fatta successivamente, che non teneva a discorso dei danni del terremoto, ma miglioramento sismico, l'adeguamento sismico, è messo che dobbiamo intervenire ancora a fare qualcosina di migliorie per portarlo al massimo livello di sicurezza, anche se adesso non c'è neanche ne crepolina. Sì, ci sono dei, ci sono dei gradi, comunque fino a uno, il top è uno. Il top è uno, poi dopo c'è dallo 60, ci sono dei vari livelli. Noi per portare appunto a livello compatibile con l'attività, abbiamo interventi sempre strutturali, poca roba, 230 mila euro di intervento complessivo, di cui 187 mila per lavori. Quindi siamo proprio nella fase conclusiva, quasi delle finiture direi, però siamo già intervenuti sugli spogliatoi di Gallo, adesso vogliamo completare anche con la parte dell'involucro della palestra per portare livelli più alti che si può di miglioramento sismico. di miglioramento sismico. Questi sono un po' i progetti, chiaro che si innestano in un percorso progettuale di altissimo livello perché già abbiamo dei cantieri, abbiamo detto, abbiamo completato di recente, abbiamo inaugurato di recente le scuole elementari trasformate in scuole medie che hanno iniziato il loro ciclo formativo qui a settembre, quindi i ragazzi sono entrati a settembre dentro la scuola e stiamo riqualificando tutta la parte ex scuole elementari e successivamente anche la materna perché poi le sposteremo, quindi tutte le nostre strutture dedicate all'insegnamento sono tutte soggette di un intervento massiccio di grande miglioramento, adeguamento, noi avremo tutte le tutte le certificazioni sismiche, antincegno, tutte le certificazioni le avremo in tutte le nostre strutture educative e non sono tanti comuni che hanno tutte le certificazioni in regola su tutte le strutture educative tutte le strutture e anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico sotto ogni aspetto sotto ogni aspetto saremo al top di gamma ci sono voglio dire ci sono comuni limitrofi che hanno problematiche molto più 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 pressanti non sono alcuni limitrofi però guardando un po' le statistiche in gran generale quando ci sono questi interventi giornalistici che dicono dobbiamo intervenire lì perché dobbiamo sistemare certe scuole insomma a volte ci sono dei parametri anche abbastanza bassi di copertura delle certificazioni quindi il fatto di avere tutte le scuole certificate il famoso punteggio che dicevamo un attimo fa esatto ecco quindi avere quel punteggio lì insomma uno sembra poco ma in realtà è il massimo cui si può avere anche l'antincendio anche tutte le certificazioni elettriche c'è una marea di carta non è che uno vede la struttura è bella piace siamo a posto no non è vero c'è tanta carta dietro i nostri uffici sono dedicati ventre a terra all'acquisizione di tutta la certificazione necessaria se tengono tanto e non è solo un problema diciamo così è una risposta a un'esigenza di oggi ma come ci siamo strutturati quindi con 16 aule per la scuola materna disponibili altre 16 aule per le scuole medie che rispondono a un'esigenza educativa di tre anni perché materna e medie esigenza educativa di tre anni e più di 20 aule per la struttura che può rispondere all'esigenza della scuola elementare noi siamo in grado di rispondere alle necessità educative del nostro comune per un bel po' di anni poi adesso che si sono accorti che stiamo andando incontro all'inverno demografico credo che qui al 2050 probabilmente appoggio renatico non sarà più necessario parlare di scuole quindi mettiamo in sicurezza i nostri giovani i loro figli i nostri nipoti tutto perché l'offerta educativa sarà garantita soprattutto per un'esigenza strutturale non mancherà nulla restiamo nell'ambito sempre PNRR o comunque linee del PNRR punti del PNRR qui parliamo abbiamo parlato di interventi strutturali sotto l'aspetto vi chiedo se sono state previste almeno a livello non so un capitolo che viene poco citato è il capitolo della cultura nel senso ma non da voi insomma nel senso generale della cosa eppure ci sono ci sono insomma ci sono mi pare intorno ai 6 miliardi 5 miliardi e qualche cosa previsti poi è chiaro nazionali sì previsti a livello nazionale poi ecco come sempre risottolineiamo stiamo parlando di progettualità di proposte che poi devono essere in qualche maniera approvate e poi in un qualche altro modo finanziate quindi nel capitolo cultura visto che abbiamo parlato di Castello Lambertini che insomma nel 2023 arriverà e ammetto personalmente sono curiosissimo di venirlo ho perso il treno di venirlo vedere durante le feste di Natale sarà l'occasione sarà l'occasione di vedere i lavori in corso d'opera anche perché si protraggono nel tempo adesso è una prima è un primo approccio ma il bello credo che debba ancora venire fuori sì io anzi magari avremo modo di far vedere qualche fotografia poi so che avete un responsabile tecnico che è particolarmente orgoglioso di questa e aggiungo io a giusta ragione perché è per insomma Ferrara si dice sempre estensi estensi ecco questo è un territorio invece che voglio dire parliamo di c'è di mezzo un papa ecco quindi ecco il famoso cardinale Lambertini ecco forse più per le commedie di testore però è stato un papa che ha stato papa per tanti anni e ha fatto quest'opera importante di derivazione del re che prima non girava come gira adesso è stato inalveato nel canale del podio primaro ma prima andava verso il po e alimentava le nostre paludi quindi nel 1750 è stata questa importantissima opera di bonifica che è stata fatta ancora nei primi documenti dell'archivio del comune che ho visto quelli del 1800 che sono custoditi in archivio nuovo abbiamo fatto anche in archivio nuovo tra l'altro in accordo con la soprintendenza archivistica che è una cosa che passa in secondo piano ma di sede alla soprintendenza che un'attenzione così per i documenti storici mi sembra solo due comuni in Emilia Romagna siano rossiti a porla quindi erano molto soddisfatti e ci hanno accompagnato con grande attenzione e grande sensibilità perché il discorso dell'archivio storico prima era dentro il castello ma non poteva essere ricollocato lì per questioni o divisi del fuoco o strutturali quindi si è optato per una nuova struttura dedicata e in quei primi documenti lì ci sono ancora le ricevute degli scariolanti del 1800 quindi per dire quanto è andata avanti la faccenda e quindi un'opera importantissima che poi ha caratterizzato delle nazioni dei territori ecco non dimentichiamoci questo importante come dicevi tu questa importante caratterizzazione della nostra storia legata a questo Papa a questa famiglia Lambertini questa famiglia Lambertini tocchiamo una nota dolente fino adesso abbiamo parlato di soldi in positivo parliamo di soldi in negativo so che anche Poggio aderisce alla chiamiamola protesta per quello che è fattibile sulla problematica energetica sulle problematiche dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e quant'altro ma noi adesso stiamo lavorando molto sull'efficientamento energetico delle nostre strutture tanto anche la regione ha detto ma voi avete le strutture in più ma dopo come fate a mantenerle perché è un quesito che aveva posto anche la regione ma riguarda adesso noi tutti gli interventi che stiamo facendo sono ad altissima efficienza quindi avere delle strutture in più non dovrebbe complicare troppo la nostra situazione chiaro che i costi storici adesso vedranno delle impennate abbiamo già l'haller che ci è stato lanciato dall'ufficio ragioneria dall'ufficio tecnico perché già parlando solo di illuminazione pubblica diciamo per intenderci i lampioni devono rimanere accesi ma le scuole e tutte le strutture nostre devono funzionare quindi abbiamo dei consumi che sono difficilmente comprimibili se non passando attraverso un forte efficientamento che stiamo già facendo uno degli aspetti più importanti su cui si stiamo concentrando è l'illuminazione pubblica noi ci scade il contratto COSIT fatto nove anni fa ci scade proprio quest'anno e stiamo cercando delle soluzioni che permettono anche attraverso se necessario una presa in carico temporanea o degli impianti però arrivare a un efficientamento complessivo dei nostri quasi 2000 punti luce adesso abbiamo circa 400 punti luce già a led e gli altri sono vapori di sodio c'è la possibilità di ridurre della metà qualcuno dice anche di più mi accontenterei di ridurre della metà il consumo dell'energia elettrica perché mi sembra che lampade da 100 watt possano essere sostituite con degli impianti a led che ne consumano 50 quindi sarebbe una riduzione secca del 50% dell'80% dell'impianto che abbiamo già in essere che riguarda l'illuminazione pubblica quindi probabilmente riusciremo a contenere se non proprio nel 2022 ma nel 2023 l'impatto energetico poi io dico sempre che si va bene preoccupiamoci ma quando il problema è dell'Italia uscirà la soluzione un po' per tutti perché non credo che sia il problema di Poggio di Terre del Reno di Bondeno di Centro sarà un problema di tutti e quindi per avanti una soluzione anche le tasche dei cittadini che anche loro sono meno i cittadini e anche imprese perché sì ecco soprattutto le imprese soprattutto le imprese perché per la parte pubblica credo che una soluzione arriverà le imprese soprattutto quell'energia vorrà andare in difficoltà e le associazioni di categoria si stanno muovendo loro tutela è un problema molto grande ecco dal punto di vista come credo come sindaci comprendiamo la portata ma comprendiamo altrettanto che è al di fuori della nostra portata questo problema e quindi attendiamo degli interventi di tipo governativo regionale ma in questo caso governativo perché è una cosa che interessa l'Italia anche mezza Europa sì sì occorrerebbe un po' qualche scelta diciamo così autarchica nel senso di cominciare un po' di più con la produzione autonoma quanto meno di quello che è possibile cioè la corrente elettrica uno se la può anche adesso ad esempio nel territorio di Poggio avendo disposizione tante aree industriali che non sono decollate si è accesa l'attenzione su quella possibilità appunto di realizzare degli impianti fotovoltaici abbiamo già diversi operatori di levatura nazionale che stanno intervenendo già un campo fotovoltaico è in corso di realizzazione lo si vede a nord di Poggio è tutto il tracciato e a 8 10 15 20 megawatt alla volta ipotizziamo che si possa arrivare sul territorio di Poggio su area industriale quindi non consumo di suolo agricolo ma consumo di suolo che era già deputato all'attività produttiva addirittura arrivare ipotizziamo nel medio termine a 150 megawatt di cose installate praticamente riusciremmo a dar luce a quasi tutte le famiglie della provincia di Ferrara solo con gli impianti installati a Poggio nel medio termine nel breve termine abbiamo già due impianti autorizzati uno da 16 megawatt l'altro da 8 megawatt in adiacenza all'abitato di Poggio che nel 2022 andranno in realizzazione insomma in corso già in corso di realizzazione è l'area diciamo che costeggia o comunque che prevede il nome della zona tu forse lo sai che è comunque l'area che costeggia diciamo il collegamento con la superstrada ecco insomma in quella zona lì ti strappo un'ultima cosa ti chiedo un'ultima valutazione sulla situazione visto che è di attualità e so che tu sei in una qualche maniera il capofila dell'alto ferrarese parliamo di parliamo di rifiuti i rifiuti sono un tema sempre ho avvocato un come si dice il classico nervo scoperto ma guarda io sto leggendo sto leggendo arriva la resegna stampa di Attersy e mi arriva e vedo che i rifiuti sono nervo scoperti in tutta Italia non solo da noi ecco noi abbiamo alcune caratteristiche a livello regionale abbiamo 10-11 gestori e le nostre il nostro gestore oggi discende da una fusione abbastanza recente di 4-5 anni fa fra il gestore che era dell'alto ferrarese mv e il gestore del basso che era area era area è nata clara è nata clara non posso negare che avessimo aspettative diverse rispetto a questa fusione perché dico molto semplicemente da una fusione come in tutte tutte le situazioni produttive 5 più 5 dove portare a 8 no cioè arrivare a delle ottimizzazioni dei contenimenti dei costi mantenendo o migliorando anche l'efficienza della struttura che si va a fondere da noi purtroppo questo risultato non l'abbiamo visto quindi abbiamo visto un po' tradite le nostre aspettative ma stiamo lavorando però per arrivare a un punto di sintesi clara non ha ancora l'affidamento da Atersi quindi è ancora in prorogo che Atersi sta sollecitando perché questa situazione deve essere definita o si va ad un affidamento quindicinale come di solito avviene con gli altri gestori come avviene per tutte le zone quanto meno dell'Emilia Romagna oppure si va a gara come sulle due alternative se c'è un affidamento in auso si fa questo affidamento che Atersi deve certificare oppure si va a gara Atersi clara ha già predisposto un piano industriale noi ci stiamo confrontando su questo piano industriale attendiamo ci attendiamo da questo piano industriale delle risposte alle nostre attese ci dobbiamo trovare adesso come sindaci per definire delineare al meglio parliamo di sindaci dell'Alto Ferrarese clara est o di tutto tutti 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 come certo magari come sindaci dell'Alto Ferrarese SMV eravamo rimasti eravamo tra quelli meno soddisfatti dell'esito di questa fusione però diciamo così le criticità che avevamo rilevato sembra che siano anche colte da parte o buona parte anche degli altri comuni anche perché ci sono dei dati che non forniamo noi che fornisce IFEL che fornisce ATERSY di comparazione e al di là dei risultati che dal punto di vista dell'acqua differenziata abbiamo già diversi comuni sopra l'80% quindi siamo già dei livelli ai massimi livelli nazionali si può dire ecco col porta a porta però non abbiamo ancora gli stessi livelli di ottimizzazione per quanto riguarda i costi quindi è chiaro che l'azienda deve fare delle scelte deve adottare delle linee di efficientamento ottimizzazione dei servizi e anche di personale per nel breve medio termine arrivare un pochettino a essere da parametro i costi standard che vengono indicati da IFEL che vengono poi comparati all'interno dei piani economici finanziari che ogni comune ha dicono che in genere il rifiuto a tonnellata costa 300 320 330 euro a tonnellata in base a ci sono tante caratteristiche da considerare tipologie di servizio distanze degli impianti e così via sono tante le voci a cui dar risposta tutto sommato l'ultima riva in fondo a destra che è poi quella che è di riferimento per ogni cittadino per ogni amministratore alla fine è appunto da questo risultato attorno ai 300 euro a tonnellata in alcuni casi i comuni anche più virtuosi trovano avere dei costi per tonnellata che vanno anche sui 400 perché i costi fissi rimangono alti se si è molto efficienti e se è abbastanza green siamo in grado di produrre pochi rifiuti quindi scendere sotto i 400 kg per capite di rifiuto complessivo è una cifra molto bassa e l'obiettivo di raggiungere anche di scendere sotto i 100 kg di rifiuto per capite rifiuto tal quale quindi metto 80 kg di rifiuti e 300 di differenziata che ti permetterebbe di arrivare a quelli belli che dicevamo prima parliamo di parliamo della cosiddetta popolazione equivalente o parliamo di popolazione se è equivalente lo risultato è ancora migliore parliamo della popolazione residente residente adesso io faccio un conto però se facciamo ti interrompo un attimo spieghiamo che l'equivalente è quella che comprende anche diciamo così i flussi e la parte turistica certo tanto è vero è molto semplificata questa spiegazione ma è giusto per far capire infatti ci sono due parametri ci sono due parametri ne teniamo uno poi usiamo sempre quello al netto al netto di un comune prettamente turistico che è Comacchio che pure avendo poco più di 20.000 abitanti residenti ne ha considerato il flusso turistico supera i 60.000 quindi è chiaro che i dati di Comacchio devono essere comparati Comacchio da solo fa quasi come tutto l'auto ferrarese messi insieme se andiamo a vedere i dati comparati e la produzione di rifiuti storiche quindi ecco da questo punto di vista certo va considerato va valutato stiamo lavorando perché l'azienda guidata da Atersir e spinta anche dalle nostre aspettative riesca sia in grado di trovare il giusto equilibrio tra efficienza e costi nel breve e medio termine stiamo lavorando per arrivare a questo punto poi ci sono diverse situazioni e a volte dipendono anche dall'errore umano non solo anche perché quando si lavora con il porta a porta è chiaro che c'è un grande intervento la componente umana incide molto e lì l'errore umano è sempre dietro la porta diciamo così nel porta a porta l'errore umano è dietro la porta è più facile quindi suscita un po' di malcontento il fatto che se ti lasciano un sacco davanti a casa ecco che suscita malcontento adesso poi con i social si fa presto però quando si arriva a delle performance che superano l'80% vuol dire che il grosso del lavoro è stato fatto poi ci sono ampie margine di miglioramento sono convinto anch'io però intanto già arrivare ad avere tutti più o meno il suo servizio noi adesso abbiamo tutti le pattumelle i bidoncini che tecnicamente si può arrivare anche alla tariffa misurata anche se non c'è tutta questa urgenza la cosiddetta puntualissima puntualissima e col fatto che si paga paghi per quello che produci ecco li diamo avanti con prudenza perché il rifiuto non è l'acqua non è la luce non è il gas di cui abbiamo appena parlato perché non gira attraverso i tubi attraverso i contatori automatici ma gira attraverso al senso etico che abbiamo ognuno di noi perché il rifiuto puoi trovarlo anche in fondo al fosso e vediamo che i fossi si stanno riempendo e tra l'altro domenica organizziamo un pulipoggio con volontariato perché per quanto sia abbiamo di questi comportamenti maleducati incivili che ti portano a buttare un po' di tutto da tutte le parti quando in realtà il rifiuto te lo vengono a prendere a casa è più comodo di così tanto pagato è pagato i tariffi sono quelli come qualcuno ha osservato tanto è inutile buttarla nel fosso perché comunque si paga lo stesso quindi si è pagato anzi no paghi di più perché poi adesso vabbè il volontariato dà una mano ma se si deve attivare anche i servizi aggiuntivi chiaro che poi viene a costare pure di più quindi la comodità di averlo lì davanti a casa è chiaro bisogna avere un po' la pazienza di fare i sacchi di accumulare le pattumelle è un altro approccio un altro approccio la nostra possiamo dire che anche la nostra però il modello edilizio insomma tante case anche i piccoli condomini comunque ci hanno un cortile per poter o mettere i bidoni o mettere le varie pattumelle io ho visto il passaggio anche quello con le calotte abbiamo vissuto anche con le calotte e lo spostamento dei cassonetti posso dire che è stato più tragico lo spostamento dei cassonetti perché quando ci sono i cassonetti tutti lo vogliono comodo ma sempre vicino a casa di qualcun altro e lì si scatena la guerra comodo ma non davanti a casa mia ma non davanti a casa mia davanti a casa di qualcun altro e lì effettivamente nella collocazione di alcuni cassonetti davvero delle grossissime difficoltà premesso che per esempio io e il cassonetto ho sempre avuto sotto la finestra una volta la camera da letto e una volta della cucina a 5 metri perché la casa è a 5 metri dalla strada quindi so so cosa significa però insomma adesso con il porta a porta soprattutto in estate soprattutto in estate soprattutto in estate ti chiedo solo una puntualizzazione perché abbiamo fatto come testata come più magazine abbiamo fatto recentemente un articolo che poi è dato anche sul nostro social e tra le osservazioni c'è stato c'è stato fatto c'è stato fatto notare che per quello che riguarda il discorso della decisione su l'affidamento del servizio in realtà ci sarebbe anche una parte di discrezionalità diciamo così dei vari municipi soprattutto per quello che riguarda Clara che è una partecipata o meglio in sostanza abbiamo appena detto che fondamentalmente l'affidamento del servizio lo dà Atersir che è l'ente regionale preposto a questo tipo di incarico ma che ci sarebbe comunque anche una parte di discrezionalità nell'appartenere ad una determinata area perché ragioniamo in aree anche qui sempre per chi ci ascolta chi ci guarda ragioniamo in aree ci potrebbe essere una discrezionalità da parte diciamo così in primis del municipio che decide di rimanere con una determinata situazione piuttosto che un'altra ecco se riesci a chiarirci perché in realtà non è così ecco uno dei parametri mi sembra di aver capito la faccio più semplice il comune di Poggio Renatico domani Daniele Garuti diciamo così viene colto da folgore divina e decide che non fa più parte di Clara no 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 c'è un aspetto societario ma c'è un aspetto di affidamento non è una cosa che decide il comune questo no no in nessuna parte delle migliori romani così a parte alcune gestioni locali ma quella è un'altra faccenda se c'è una tradizione storica di gestione locale è un'altra faccenda ma qui non è non è il nostro caso ho fatto un esempio in questo articolo facevo l'esempio di quello che succede nell'area diciamo così a ridosso del Po nella provincia di Reggio Emilia Boretto quelle zone lì che hanno una 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 hanno Sabar cos'hanno un gestore che si hanno direttore un gestore che è stato a un affidamento è stato proprio esaminato adesso ne parlavamo con altri l'altro giorno tra virgolette guardando i numeri che abbiamo attualmente a disposizione che per la verità sono un pochettino vecchiotti a cominciare dal bilancio di Clara che siamo fermi a tre anni fa o meglio a due anni fa perché quello del 2021 non è ancora non è ancora stato deliberato ecco però a livello di pubblicità degli atti siamo fermi a 2019 quindi abbiamo dei dati per carità vecchi ma insomma che ahimè fotografo in una situazione che non è ecco si guardavamo ecco Sabar è la diciamo lei la ciliegina sulla torta se vogliamo usare questo eufemismo ecco si si ha dei parametri ottimi ecco ma senza andare tanto lontano anche fino all'Emilia hanno comunque dei dati ecco si si ma infatti noi lo dicevamo sul risultato dove diamo i comuni diciamo così comparabili se mettiamo Terre del Reno Poggio Renati e Vigarano che sono gli ultimi che sono entrati così anche nel percorso della porta a porta siamo tutti e tre comuni che rispondiamo in pieno a quelle caratteristiche di ottimi risultati in ordine alla raccolta differenziata e qui qui non ci piove siamo a livello dei migliori gestori si può dire come tre comuni rimane l'aspetto dei costi che quello dicevamo prima ma che discendono da un qualche cosa che si porta avanti nel tempo e quindi qui c'è la ricerca di ottimizzazione che deve poi ribaltarsi in un costo a tonnellato un costo per capita più vicino ai parametri regionali sappiamo che Clara è quella che ha il parametro regionale più alto da questo punto di vista da qui la nostra richiesta appunto di essere più incisivi in questo piano industriale ecco c'è una richiesta convinta credo di tutti i comuni o cercheremo di giungere a questa soluzione condivisa perché Atersir ci dia anche questo input anche perché il fatto di un affidamento passa attraverso alla dimostrazione che la nostra efficienza è all'attezza e al tempo stesso è accompagnato da una economicità che si può confrontare con il mercato quindi abbiamo anche delle gare abbiamo ERA che ha fatto le gare IREN fa le gare tutti i grossi gestori fanno le gare e quindi dobbiamo arrivare a parametrarci su cui lì per questo stiamo cercando un percorso condiviso il più possibile condiviso per arrivare a questi aspetti credo sia difficile partire per la tangente dicendo facciamo di qua facciamo di là facciamo delle cose strane no no poi consideriamo un'altra cosa sotto l'aspetto mi cedi tu anche di alcune caratteristiche locali diciamo credo sia importante capire qual è il costo standard del tipo il camion che tira su la plastica il sacco di plastica costa 100 euro l'ora se io chiedo di fare una raccolta ogni 15 giorni so che mi costa X se io come comune chiedo ma io vorrei un servizio ogni settimana devo capire che quel costo lì raddoppia anzi un po' di più perché va a modificare quello che è la pianificazione complessiva di tutti gli interventi ecco dobbiamo avere questa cosa se poi una cosa banalissima che è all'ordine del giorno tutti gli autunni sappiamo cosa significa ci riempiamo di fogli se chiediamo un servizio di spazzamento più incisivo sappiamo che la spazzatrice costa 80 euro all'ora e se invece che fare un giro alla settimana ne voglio fare due so che questo costo mi aumenta è un rapporto che poi ha il sindaco con i suoi cittadini dire volete un paese pulito volete stiamo nella media o non volete spendere niente vi lasciamo i mucchi di foglie fino a marzo e poi un po' alla volta se ne andranno oppure no voglio un paese che assomigli a Monte Carlo come dico sempre io ai miei tecnici noi dobbiamo mirare a Monte Carlo ma no ma costa troppo vabbè a calare facciamo il tempo però prendiamoci un obiettivo alto poi a calare caleremo in funzione delle nostre disponibilità è chiaro che nel rapporto che il sindaco ogni amministrazione con i suoi cittadini può valutare di comune accordo con senso di partecipazione naturalmente di responsabilità quello che è il livello che si può dare importante però è capire qual è il costo base io voglio implementarlo è giusto ci sono dei parametri ci sono delle esperienze il Veneto sappiamo che è primo in Italia come dice in Veneto in molte realtà del Veneto fanno delle raccolte quindicinali c'è una grande partecipazione civica dei cittadini c'è una grande collaborazione quindi non è solo il gestore è anche l'attenzione la correttezza dei cittadini che dà una mano mettiamoci insieme tutto non è sempre colpa dell'orco e del lupo cattivo e di qualcun altro no ci mettiamo anche noi il nostro senso etico ci deve aiutare e dove sono più civili i risultati si vedono e anche i costi anche i costi nel tempo riescono ad abbassarsi ecco questa è la cosa importante caro signor sindaco io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato come si dice alla prossima ogni tanto ci sentiremo ci sentiamo vi ho fatto una bella chiacchierata certo con una chiacchierata così ampia non si riesce a entrare nel merito e nella puntualità di ogni argomento però insomma c'è la possibilità eventualmente anche di concentrarci su un tema magari possiamo tornare sul tema dei rifiuti perché un tema trasversale che coglie tutti e bene o male ognuno si sente pizzicato adesso vedremo a breve insomma se riusciremo a presentare questo tema industriale l'azione lo farà entro fine mese e poi vedremo i risvolti e le osservazioni che Atersil ci darà non dimentichiamo che i sindaci compongono anche il consiglio locale di Atersil Atersil è l'ente regionale che ha un suo e farà una sua valutazione tecnico tecnico amministrativa poi c'è anche il consiglio locale che esprime un parere nel consiglio locale ci sono tutti i comuni c'è anche Argente anche Ferrara che non hanno Clara come gestore ma hanno Clara e Ferrara c'ha era come come Gara insomma quindi è una riflessione sempre ampia anche le tariffe ricordiamo ne approfitto non è spesso volete dire ma il comune ha cambiato le tariffe no il comune le tariffe sono disposte da Atersil di Bologna noi possiamo esprimere un parere in funzione di quello che è il rapporto fra ogni comune col gestore e rispetto ai servizi che vengono erogati ci deve essere coerenza fra i servizi che vengono erogati e la tariffe che viene applicata Atersil verifica questa coerenza se ci sono delle modifiche come è già successo qualche anno fa dove c'eravamo un pochettino innervositi Atersil interviene e richiama il gestore a riequilibrare quelli che sono i piani operativi rimane rimane comunque solido il principio che stiamo lavorando per portare delle riduzioni del costo generale dell'azienda l'azienda adesso costa quasi 50 milioni di euro per 220 mila abitanti serviti considerando come anche che ne vale 60 mila col turismo noi diciamo che deve scendere cioè il costo generale dell'azienda si deve ridurre deve scendere sotto i 200 euro abitanti e avvicinarsi più ai 150 che era l'obiettivo del 2016 di la verità era l'obiettivo antifusione ed era quello che c'era stato proposto quando c'è stata l'analisi su di fattibilità per fare questa fusione ci veniva prospettata questa opportunità quel famoso 5 più 5 uguale a 8 che non abbiamo visto e quindi che poi si trasformerebbe in qualcosina in meno sulla bolletta di ognuno e dovrebbe trasformarsi in qualcosina in meno anche perché si deve essere anche equilibrio in quella che è l'applicazione delle tariffe perché c'è anche disomogeneità nell'applicazione delle tariffe anche nel nostro abito abbiamo di più o meno 10% a seconda del comune in cui ti trovi a seconda dei rifiuti che produci quindi anche questo è un fattore che deve essere portato in equilibrio ma questi sono quegli aspetti poi che Attersi valuterà abbiamo già sottolineato in passato e sanno oggetto di valutazione perché quando Attersi certifica che l'affidamento è corretto va a certificare anche questi aspetti qui verificherà questi aspetti ecco un'altra cosa correggimi se sbaglio che è importante a puntualizzare riguardo il discorso del rapporto tra l'ente e Attersi è importante specificare che voi fate parte del consiglio è una consulta non è un parere non vincolante non è che avete potere decisionale diretto il sindaco si riguarda questa cosa non va bene o comunque lo segnaliamo ma il nostro è un parere obbligatorio non vincolante certo che se un qualche cosa di Palese esce dal consiglio locale con un parere negativo fermamente contrario Bologna ha anche qualche problemino poi dopo da provare ne deve tenere un punto in qualche modo insomma una valutazione che sia abbastanza in linea oppure motivazioni specifiche di cui noi non siamo conoscenza perché poi i sindaci devono essere oniscenti più di picco della Mirandolo perché devono essere esperti su tutto magari sono degli elementi tecnici di cui non disponiamo che possono propendere per una decisione piuttosto di un'altra benissimo ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato grazie alla prossima grazie grazie a te Lorenzo grazie PiWeb alla prossima alla prossima grazie a te